ecco ti auguro una santa giornata e che possiamo insieme aiutandoci fare un bel passo avanti nella comunione con dio tra di noi e nel vivere bene saggiamente con coraggio e pazienza questo tempo segnato dalla da questa epidemia ma anche da nuove grazie che il signore ci sta dando iniziamo sempre con questo segno della croce solenne con la preghiera allo spirito santo nel tuo nome o padre che mi hai generato o figlio che mi hai redento o spirito che mi porti a santità voglio vivere sempre specialmente questo tempo di prova e di particolari grazie ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte invochiamo lo spirito di santità che spirito di luce per capire la nostra vita e anche il dramma del male spirito di santità spirito di santità facci santi presto santi grandi santi di nuovo insieme ecco questa mattina e anche qualche volta nei giorni prossimi facciamo una meditazione un po speciale difficile ma anche importante riguardante in modo particolare il senso di questo tempo che viviamo significato profondo spirituale davanti a dio perché questa è un'occasione forse unica che non si ripeterà per capire in modo più profondo alcune cose della nostra vita come una vita per l'eternità una vita di passaggio sulla terra ma anche importantissima per capire anche che mentre noi conosciamo dai nostri genitori dagli altri il giorno della nostra nascita non conosciamo l'ora della nostra morte l'esperienza di questi giorni ci fa capire che la fine della vita terrena può venire in ogni momento e può venire in condizioni imprevedibili proprio ieri anche ho sentito un'amica una nostra carissima collaboratrice che ha perduto un fratello all'età di 48 anni forse per una diagnosi diciamo non indovinata in tempo ecco per un tumore allo stomaco che non era stato diagnosticato in tempo ecco ma tanti potrebbero raccontare esperienze dolorose anche nella nostra comunità abbiamo avuto tante morti in questi ultimi mesi e questo ci deve ricordare che non siamo qui sulla terra per sempre e che l'ora della morte può avvenire in ogni momento anche all'improvviso quando meno ce l'aspettiamo e qui ci ricordiamo gli insegnamenti di Gesù sulla vigilanza Gesù dice che quell'ora può venire a noi come un ladro nella notte come un laccio del cacciatore immagine per farci capire che a volte è imprevedibile mentre il senso della vita invece è proprio di prepararci bene a quell'ora per entrare davanti a dio preparati e per avere un'eternità felice ecco adesso su questo sfondo faccio una domanda difficile di cui quasi molti non osano parlare che è questa si può dire in una prospettiva cristiana credente che la pandemia è un castigo di dio per i peccati del mondo si può dire che dio castigo servendosi anche degli eventi dolorosi della vita ecco questa domanda un po' scombussolare può turbare il cuore di tante persone e può addirittura essere fonte di crisi di fede per alcuni ecco per cui anche bisogna trattare questo tema con non solo con prudenza con sapienza stando ben attaccati all'insegnamento di Gesù e della chiesa ecco per nulla togliere nulla aggiungere di ciò che dio realmente ha rivelato ecco mentre in passato si insisteva in un modo un po' squilibrato sulla giustizia di dio su dio giudice e trascurando un po' questo amore infinito di dio la sua misericordia e trascurando anche il senso di questa giustizia di dio che in ordine alla salvezza finché siamo sulla terra oggi in molti ambienti anche ecclesiali anche nei discorsi di alcuni pastori c'è uno squilibrio opposto cioè è una insistenza unilaterale sulla misericordia di dio che non aiuta a capire le conseguenze dei peccati e l'impegno di penitenza e allora in questa meditazione per ora ci riferiamo a due passi uno chiarissimo dell'antico testamento che nel libro di tobia al capitolo 13 una bellissima preghiera scritta da tobi che c'è anche nella liturgia cristiana nella liturgia delle ore dice così benedetto dio che vive in eterno il suo regno dura per tutti i secoli egli castiga e usa misericordia fa scendere negli abissi della terra e fa risalire dalla grande perdizione e nulla sfugge alla sua mano ecco di questo testo di tobia 13 versetto 2 cogliamo particolarmente questa espressione dio castiga e usa misericordia c'è anche un altro passo che possiamo citare su queste conseguenze dei peccati i peccati hanno conseguenze gravi non solo sulle malattie i disastri la guerra l'odio ma hanno conseguenze disastrose quando non vanno a contatto con la misericordia di dio e restano il nostro cuore alla fine della vita la famosa dannazione eterna l'inferno che fa parte delle verità sicure che la chiesa da duemila anni insegna e la conseguenza ultima del peccato non non riconosciuto non accompagnato dal pentimento e non inondato dalla misericordia di dio spesso oggi si dice dio perdona sempre ed è vero a condizione che noi riconosciamo i nostri peccati cerchiamo il suo perdono ci affidiamo a lui e che in questo pentimento risolviamo di vivere secondo la sua volontà c'è un altro passo del vangelo che ci può aiutare in questa meditazione è riportato da luca al capitolo 23 versetto 28 gesù salendo al calvario incontra delle donne che piangono per lui fanno lamenti e con grande dolore e anche con affetto con amore a gesù che vedono così ingiustamente così ingiustamente maltrattato e gesù si ferma e dice figlie di gerusalemme non piangete su di me ma piangete su di voi e sui vostri figli perché se viene trattato così legno verde che sarà del legno secco e con invito al piangere a riconoscere la gravità dei peccati adesso qui però dobbiamo fare un passo avanti perché siamo in un terreno veramente delicato dunque dalla fede cristiana già dalla genesi si vede un legame profondo tra la disarmonia che c'è nel creato il male che c'è nel creato il male anche sociale delle relazioni tra di noi canziché essere fraterne diventano di competizione e il peccato se si rilegge con calma i primi capitoli della genesi si vede questa tesi di fondo che dal peccato originante di origine viene un grande male il distacco dell'uomo da dio la perdita della fiducia nel suo amore il conflitto tra adamo ed eva il conflitto tra i suoi figli e il disordine nel creato e poi la morte in quel passo chiaramente la morte e quindi anche le malattie che lo precedono sono presentate come conseguenza del peccato ecco quindi una prima diciamo grande affermazione fondata nella sacra scrittura nella fede della chiesa è che dal peccato viene il male che c'è nel mondo il male non viene da dio dio è il primo a soffrire del male che c'è nel mondo per i suoi figli ma non è lui l'origine l'origine è il distacco da dio e il peccato e quindi anche è fondato teologicamente affermare che più il mondo pecca più i disordini aumentano e il signore a volte si serve di questo male causato dell'uomo per non castigarlo come fino a se stesso ma per ammonirlo il castigo di dio non è mai una cosa fino a se stesso dio non gode né della sofferenza né del castigo ma si serve di queste cose dolorose frutto del peccato del mondo per suscitare un ripensamento e mentre anche in un certo senso si può dire in modo antropomorfico che castiga dalla grazia per sopportare il male e anche per capire come in esso c'è una porta aperta per tornare al signore ecco poi dopo di questo c'è anche un altro passo si può dire in una esperienza cristiana in una visione cristiana delle cose che la pandemia è causa è causata da particolari peccati di alcuni popoli di alcune persone di alcuni responsabili è stato detto recentemente anche si legge in internet che questa pandemia è il castigo di dio per l'omosessualità per l'aborto per altre deviazioni dell'umanità questo si può dire con molta prudenza con molta prudenza stando attenti di non farne accuse a singole persone o anche a popoli è vero che i peccati qualunque peccato non solo l'aborto che sicuramente un peccato gravissimo agli occhi di dio gravissimo il divorzio l'omosessualità è un gravissimo disordine morale ma ce ne sono anche altri particolari anche più gravi per esempio l'odio disprezzo delle persone della vita le gravi ingiustizie sociali ogni forma di corruzione eccetera eccetera ecco tutti questi peccati secondo un linguaggio antico si può dire attirano i castighi di dio che sono castighi per la salvezza non per farci soffrire però non si può dire che questo male che noi vediamo è conseguenza di questi peccati specifici perché lì andiamo in un terreno di responsabilità individuali dove dio non ci ha dato una rivelazione voi ricorderete anche quando fanno a gesù la domanda circa un cieco come mai questo è cieco chi ha peccato lui o i suoi genitori perché lui nascesse cieco e gesù non risponde a questa domanda che rimane un mistero che solo dio conosce pienamente ma indica il fine di questo male la stessa cosa per lazaro non è cieco non dice chi è la causa quale peccato preciso e causa di questa malattia ma dice per la gloria di dio perché l'intervento di dio si inserisce in questo dramma del male del peccato e lo riorienta a una manifestazione specialissima del suo amore ecco questo anche spiega perché certi mali gravi del mondo che sono conseguenza del peccato del mondo complessivamente inteso colpiscono ugualmente giusti e cattivi innocenti e malvagi ci sono anzi nella storia della salvezza delle persone particolarmente buone innocenti che hanno sofferto dolori molto più degli altri e questo vale in modo eminentissimo per gesù totalmente innocente che ha espiato il peccato del mondo con una straordinaria sofferenza questa riconosciuta anche da quello che noi chiamiamo il buon ladrone ricordate sulla croce quando gesù è insultato anche dall'altro ladrone uno lo difende dice neanche tu hai un po di ritegno immerso in questa grande sofferenza noi paghiamo il giusto castigo per i nostri le nostre malefatte ma lui non ha fatto nulla di male ecco quindi non si può stabilire in una prospettiva cristiana una connessione precisa tra alcuni mali anche gravi e il peccato di alcune persone o di gruppi di persone si può solo affermare due cose primo che dai peccati vengono anche mali fisici sociali economici viene soprattutto il male della morte spirituale che se non si risane in tempo porta alla morte eterna cioè a un allontanamento per sempre da dio è un incollarsi dell'anima in una situazione di odio che è la cosa più terribile ecco però poi non si può dire che un certo tipo di male è colpa del mio peccato del tuo del suo e questo a livello di coscienza personale nell'esame di coscienza forse gesù a volte ci dà la luce per riconoscere le conseguenze dei nostri peccati a volte dio da questa luce ma dio non fa di nessuno di noi il giudice degli altri perché riserva a sé questo giudizio quindi da questa diciamo meditazione traiamo una maggiore serietà e anche profondità nel considerare questa pandemia io osservo per esempio qui si vede il peccato del mondo in modo proprio chiarissimo osservati i discorsi che si fanno circa questa situazione nessuno quasi nessuna volte neanche all'interno della chiesa esce dal livello sanitario economico sociale delle discussioni nessuno fa riferimento a dio parlo della società civile anche questo è frutto di un indebolimento gravissimo del senso religioso gravissimo è un indebolimento gravissimo del senso religioso e finché avviene a persone che vivono abitualmente senza dio può anche passare ma quando avviene anche attraverso uomini che hanno consagrato la vita a dio che conoscono più da vicino alla sua volontà nel suo pensiero è una mondanizzazione del mondo dei credenti ecco chiediamo al signore che ci aiuti anche a cogliere la grazia che in questo tempo a capire in che senso è vero che dio castiga il peccato e che i mali del mondo sono frutto anche dei peccati del mondo però dio sempre castiga per salvare per aprirci gli occhi per aiutarci a vincere il male col suo aiuto e a scampare dalla dannazione eterna che è il male più grande che dio considera per le nostre vite ecco per questo ti benedico ti anche chiedo di ascoltare con calma questa meditazione anche più di una volta e di chiedere anche l'aiuto allo spirito santo come abbiamo fatto all'inizio per cogliere in essa ciò che c'è di vero per questo ti benedico nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti